Allora, mo posso dirlo, mo posso tranquillamente, se fosse stata una gara fatta sulle conferenze, AMD ha vinto, si non è manco più un interrogativo, no no, perché ho appena visto una delle cose che... Allora, partiamo! Conferenze Nvidia, ovviamente ti danno lo start della Premiere alle 6.45, no, perché c'è il countdown della Premiere e dopo c'è un altro countdown dei 15 minuti che te fa Nvidia, quindi essenzialmente inizia adattivo per le 7, una cosa del genere, non mi ricordo. E praticamente abbiamo cominciato parlando del fatto che il cuore, parlando del fatto che il cuore, purtroppo stanno facendo dei lavori sull'appartamento sopra di me, ci posso fare poco, che bello, pensate, non dormirò manco stamattina, è una cosa fantastica. Del fatto che loro sono dei gamer, ci tengono al gaming, che la prossima, tutte le persone che nasceranno quest'anno saranno dei gamer, perché il gaming è il settore più in crescita e tutti gli altri settori del mondo, e viva il gaming. Dopodiché siamo a parlare del fatto che sono state spedite 1,5 miliardi di schede video, dove, come, in quanto tempo, a chi, perché, cose, non lo sappiamo. Hanno spedito 1,5 miliardi di schede video, di GPU almeno, non sappiamo se sono schede, perché poi quando arriva dopo non potremo mai sapere se effettivamente sono schede video o altra roba. Non sappiamo in quanto tempo, però, questi stati che hanno dato. La prima parte della conferenza, essenzialmente, è stata la ripetizione di quello che vediamo dal 2019. Abbiamo capito cosa è l'RTX, abbiamo capito come funziona, abbiamo capito che lo metterà su tanti nuovi giochi, vediamo l'ora di giocarci, ma non possiamo giocare se non ci dà i prodotti. Ed è lì, è lì che è arrivata la svolta. Perché sono state presentate non una, ma due schede video nuove di NVIDIA, che tu non potrai comprare, mai. È partito, sono, si è partiti con la nuova flagship di NVIDIA, ma come la 3080 era la flagship, ci siamo, ma c'è un'altra flagship. Che facciamo qua? La flagship, e poi la 3080 Ti. Ok? 3080 Ti, mille, milla cose, 12 giga GDDR6X, va non so quanto di più della 3080, prezzo 1199 dollari. Non lo dire, non lo dire, AMD ha presentato i portatili, non ha dato i prezzi, non lo dire, non lo voglio sapere, non me lo dire. Che ci rimango male. 1199 euro, non ci prendi, manco una 3060. Dove la vuoi prendere, tu la 3080 a 1200, a chi lo vuoi far cre... Ragazzi, dopodiché, c'è la scheda video definitiva per il giocatore al 1440p, che sicuramente non capisco cosa dovrebbe, che fascia deve andare a coprire, questa scheda non si sa, che è la 3070 Ti, costo 599 dollari, che tu non puoi comprare. Ora, mentre AMD, due parole, tre in croce, le avrà pure dette sulla disponibilità, sul fatto che come non ci stanno, loro, niente, glissato totalmente come se fosse la situazione più normale del mondo, come se fosse un lancio normale, di un K-not normale, spiegando cose normali, che ti vai a quella, c'è così, si è visto, abbiamo le cose, c'è... E visto, la chat era allibita. Dopodiché, questo qui, cioè i primi 15, neanche 20, 15 minuti, dopodiché finisce la... Loro, che il gaming, grande importanza del gaming, la forza del gaming, finisce la parte del gaming, 50, 40, non lo so, a parlare di intelligenza artificiale. Ora, io non voglio dire nulla su chi poi stava presentando il prodotto. Mi limiterò a dire che non tutte le persone possono essere in grado di mettersi davanti nella telecamera e parlare a degli investitori, perché la... Quando si parla di intelligenza artificiale, dei prodotti che hanno parlato, come posso dire, sono prodotti da tante migliaia di euro, che ovviamente al mercato normale non... Cioè, a te che guardi il video, non te ne frega niente di comprare una DPU Nvidia da 350 mila dollari. Probabilmente neanche casa tua ci costa 350 mila dollari. Cioè, io se penso a tutto quello che c'ho, non arriverò a un decimo di 350 mila dollari. Quindi proprio non esiste. Cioè, quindi figuratevi. Ovviamente le persone si aspettavano che parlassero di qualcosa un pochettino più inerente alle persone. Invece loro cercavano sempre di tornare a quel punto, parlandogli al fatto noi dell'intelligenza artificiale, stessa che trovino le leggi forze, stessa che trovino il gaming, quello così e quello là, ma in realtà stavano ovviamente parlando, giustamente, ripeterei, a delle aziende molto grandi, che hanno tanta possibilità di investire e che possono acquistare dei prodotti che potranno sicuramente tornare utili. L'NVIDIA AI sembra effettivamente un'intelligenza artificiale che può aiutare delle grandi case produttive, grandi software house, e va bene. Ma a questo punto io dico, perché non dedicargli un evento a parte, che secondo me è anche una soluzione migliore, piuttosto che cercare di fare una specie di mischione, ficcarci tre minuti di cui probabilmente ti vergogni anche tu di parlare di scrivere video che non puoi vendere perché non hai, e poi ci ficchi tutta... Cioè, no! Non mischiare! Non serve! Hai fatto scontenti tutti! Sto cercando di vedere effettivamente quale grande cosa... Cioè, quale grande notizia... Oltre a una certa solidarietà a Taiwan, al popolo di Taiwan, eccetera, eccetera... Comunque sapete, pure ultimamente ci sono state anche varie diatribe su internet. Lo stesso John Cena ha fatto una gaffa sul fatto di Taiwan, per carità. Massima solidarietà a tutti e a tutti. Quello che non comprendo, però, è pure questo allecchinamento continuo di Taiwan. L'abbiamo capito! State a Taiwan, vi piace a Taiwan, vi faranno fai soldi, è quello che vi pare, ma non è che possiamo sempre passare come mercati di serie B. Vendi a Taiwan, allora fai l'azienda di Taiwan e basta! È inutile che poi, ogni tanto te ne esci così, eccetera, eccetera... Non... Cioè, se non siamo un mercato importante, se non ti interessa... Cioè, se ti interessa vendere a i grossi player, se hai parlato di Amazon, se hai parlato di Google, se hai parlato di Microsoft, se ti interessa vendere a i grossi player, se ti interessa vendere a un mercato asiatico, perché probabilmente investe più in questo... Vabbè ti... Cioè, non lo di... Non di niente! Fallo e basta! Fallo e basta! Però, sinceramente, pure questo... È stata pesante... È stata un'ora pesante! È stata un'ora pesante! Pesante! E se penso che sono rimasto sveglio per vedere sta roba, cioè, mi viene proprio la rabbia! Dico, ma perché non sono andato a dormire? Cioè, perché? Ora, non sto qui a sindacare sulla bontà dei prodotti! La 3080 Ti a 1200 dollari è sicuramente la scheda video migliore che potreste acquistare per quella cifra! Non lo metto in dubbio! La 3070 Ti pure! Non le troverete mai a quel prezzo, ok? L'NVIDIA AI sicuramente è un'ottima tecnologia che potrà aiutare in un sacco di cose, che sicuramente sarà... Non lo metto in dubbio! Ma tutto... Posso dire, il modo in cui è stato presentato è veramente ai limiti del... Cioè, non so, io essenzialmente dovrei essere qui a parlarvi di novità, non posso parlarvi di novità perché l'uniche cose di cui si è parlato sono roba che conosciamo da due anni, e il DLS, e il Ray Tracing, e l'NVIDIA Reflex, e c'è roba di cui abbiamo parlato 50 volte, e poi il resto sono cose per grandi investitori, le notizie, uscita 1 è il 3 giugno, 1 è il 10, 1200 dollari, 600 dollari, e poi stiamo a ride, e poi stiamo a ride come sempre. Tutto questo, ragazzi, e allora, sono le 8 e 5, io me ne posso pure andare a dormire, magari me faccio 3-4 ore di sonno, vi ricordo che alle 5 parleremo in live di questa cosa, ah, me lo dimentico, raga, ricordatevi sempre, invidia Tai, non so se è Tai One, Tai Pareggio, eccetera, eccetera, ma soprattutto, raga, l'INVIDIA so, io sono rimasto sveglio fino alle 8 del mattina per me vedere la conferenza dove si parlava di sapone, e questo è un'avventa di schede video, ciao.